Io credo che si è persa un'occasione storica, si è dato alla dimostrazione che l'Italia non è capace di fare manifestazioni o di fare qualcosa con la piena onestà. I più importanti esponenti della politica sportiva nazionale si ritrovano a Venezia per un bilancio della trasferta azzurra alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma anche per iniziare a gettare le basi per la prossima sfida, i giochi di Tokyo del 2020. Ma inevitabilmente qui brucia ancora la rinuncia della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. In quelle giornate concitate non era stata esclusa una possibile alternativa candidatura veneziana. Già avevamo fatto Venezia 2020, se vi ricordate, quattro anni fa. Poi io spero che il CIO per i prossimi mandati non dividui solo una città e lì venga fatto tutto, come si dice, le Olimpiadi. Deve essere tutta la nazione a disposizione. A Venezia possono essere fatte le Olimpiadi della vela, del canottaggio, molte specialità. L'ipotesi di un'Olimpiade in Veneto con epicentro a Venezia è estremamente suggestiva, ma non impossibile. Siamo sicuri che Venezia sarebbe in grado di offrire un evento a livello d'eccellenza mondiale, perché i Veneti, il Veneto, hanno sempre rappresentato una grande capacità propositiva nei confronti del mondo, è organizzativa e lavorativa. E abbiamo tutti i numeri per poterlo fare. Abbiamo moltissime società sportive, abbiamo un tessuto sano, abbiamo impianti che certo devono essere anche aumentati, ma abbiamo una buona base di partenza. Per Gabriele Adorio, autentico monumento dell'atletica Veneta, medaglia d'oro nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84, un quarto posto a Mosca nell'80, sette titoli italiani negli 800 metri e ben dieci nei 1500. Non bisogna avere paura se in passato ci sono state esperienze negative. Io sono del parere che un'organità di Olimpiadi oggi come oggi, non quelle di ieri, quelle di oggi, c'è da guadagnarci sul territorio, quindi posti di lavoro piuttosto che strutture. Intanto la città deve fare i conti con l'ordinaria amministrazione. Qual è lo stato attuale delle strutture sportive di Venezia e della terraferma? Abbiamo trovato molto lavoro da fare come in tutto. Piano piano ci stiamo organizzando, stiamo cercando di razionalizzare quello che abbiamo trovato e di portare dei miglioramenti. Grazie a tutti.